Un bacio molto forte per il cinematografico e un saluto al cinematografico e noi soli Dammi buoni film durante l'anno Siamo solo noi Professor Sirignano, andiamo a Napoli, questa è l'offerta della settimana, come la giudica? Guardi, un'offerta molto interessante per quelli che sono i risvolti sociali di alcuni film che ho visto In particolare la prima notte del giudizio che giudico un film surreale ma al tempo stesso tragicamente vicino alla realtà Come è stato prima di me anche evidenziato perché dovrebbe farci riflettere, potrebbe farci riflettere seriamente Sulle conseguenze drammatiche alle quali potrebbe portarci questa insistenza sul rancore, sull'odio sociale Quindi mi spaventa davvero la possibilità che si possa ipotizzare che in un momento In un momento dell'anno, in un giorno dell'anno si possa sospendere il diritto, si possa sospendere la legge Per consentire ai cittadini di poter liberare il proprio odio, le proprie frustrazioni E questo dovrebbe farci riflettere sul fatto che a pagarne le spese sono sempre più deboli Sempre gli ultimi e gli emarginati Molto bello, io sono più forte perché mi sembra un inno alla vita Un inno alla vita nonostante sullo sfondo naturalmente c'è l'attentato tragico alla maratona di Boston Emerge la forza della vita nonostante tutto, nonostante tutto ciò che è accaduto E il protagonista diventa effettivamente un eroe Un eroe che con il suo exemplum fondamentalmente aiuta gli altri a credere ancora nella forza della vita Mi ha colpito questo ritratto anche della famiglia americana Insomma della madre dovrebbe farci riflettere Questa madre che fondamentalmente dimentica il dolore del figlio perché lo utilizza per farci pubblicità Quindi riflettiamo anche molto su questa società dell'immagine Su questa società in cui i sentimenti, anche il dolore, vengono fondamentalmente messi in piazza Per poterne avere un tornaconto al punto di vista dell'immagine E poi insomma una parola positiva vorrei spendere per l'incredibile viaggio del Fachiro Perché comunque penso che sia fondamentalmente una favola allegra Ma al tempo stesso triste che ci porta di fronte a riflettere sul dramma dei migranti Sul dramma dei rifugiati, dei profughi E' un tema sicuramente di scottante e straordinaria attualità E quindi possiamo avere la possibilità anche di riflettere Insomma ancora di più con calma al di là dei proclami e delle iniziative politiche Che spesso questi migranti vengono utilizzati, considerati come merce Come merce e si dimentica che dietro il migrante Che il migrante è soprattutto e prima di tutto una persona E penso che questo quindi sia un messaggio positivo Che questa favola trasmette E poi insomma anche l'estate del 93 Insomma è un film a mio avviso molto molto bello Perché è un film sull'infanzia Un film che comunque insomma ci fa riflettere sulle fasi della vita Che ognuno di noi attraversa Insomma e naturalmente questo è un film che parte da un dramma personale Però ci spinge a riflettere Quindi secondo me anche un risvolto pedagogico, educativo Sulle varie fasi Sui vari fondamentalmente potremmo chiamarli riti Che attraversano la crescita Con i quali bisogna comunque fare i conti Quindi insomma anche molto molto bello Insomma questo spaccato La classifica dei film più visti questa settimana Decima posizione Chiara Nicoletti A Quiet Passion 29.347 euro l'incasso del weekend 200.246 euro incasso totale Giorni di programmazione 21 sale 42 In nona posizione Chiara Tully 30.353 euro sia l'incasso del weekend che quello totale Giorni di programmazione 4 sale 121 Siamo giunti all'ottava posizione Quale titolo incontriamo questa settimana? Solo Star Wars Story 40.970 euro incasso del weekend Incasso totale 4.393.196 euro Giorni di programmazione 42 sale 88 Settima posizione Chiara 211 rapida in corso Incasso del weekend 41.312 euro Incasso totale 446.528 euro Giorni di programmazione 21 sale 114 Sesta posizione Chiara Sposami stupido 62.338 euro l'incasso del weekend L'incasso totale invece è di 268.280 euro Giorni di programmazione 14 sale 186 Quinta posizione metà classifica Hurricane Allerta Uragano 131.688 euro incasso del weekend Incasso totale 154.160 euro Giorni di programmazione 5 sale 299 In quarta posizione Chiara Il sacrificio del cervo sacro Stesso incasso Weekend 174.280 euro Incasso totale 174.280 euro Giorni di programmazione 4 sale 247 Siamo giunti alla terza posizione Papillon 256.134 euro l'incasso del weekend 298.175 euro incasso totale Giorni di programmazione 5 sale 334 Seconda posizione Chiara Obbligo o verità 376.550 euro l'incasso del weekend 1.555.377 euro incasso totale Giorni di programmazione 14 sale 319 Prima posizione questa settimana Jurassic World il regno distrutto 460.464 euro l'incasso del weekend 9.307.885 euro incasso totale Giorni di programmazione 28 sale 469 Il professor Sirignano da Napoli Il suo commento alla classifica? Beh si registra insomma naturalmente Un desiderio di evasione Di vacanza insomma anche se L'estate insomma dovrebbe essere un momento Come dire di evasione ma al tempo stesso Di riflessione perché l'Ozium ci dovrebbe consentire Di riflettere ancor più Spero mi auguro insomma che la nuova classifica Di a spazio a molti insomma di questi film Di cui di cui abbiamo parlato Che reputo senz'altro più interessanti E più significativi Soprattutto in questo momento storico particolare Professore Sirignano lei ha qualche rapporto Ha avuto qualche rapporto con il Gifuni Film Festival? No sinceramente no Insomma è un festival sicuramente significativo Importante insomma che comunque Perché comincia tra qualche settimana Sì insomma è molto Poi è un orgoglio della campania Senz'altro insomma Da tanto tempo quindi Non sono mai Non ho mai partecipato Ma ho sempre seguito con grande interesse Professor Sirignano i festival? I festival sono dei momenti molto Molto belli molto significativi Soprattutto insomma in questo In questo clima In questo clima estivo E sono anche a mio avviso Una straordinaria opportunità Di promozione dei nostri territori Mi permetto di ricordare per esempio Che dal 24 al 29 luglio A Maratea Insomma splendida località Della Basilicata Si terrà la decima edizione Del festival del cinema di Maratea Insomma con la presenza È stata aperta da Sofia Loren Il cinema è sogno Il cinema è cultura Il cinema è libertà Buonanotte Perché lo vuole sapere? Un saluto al cinema Il cinema è un saluto al cinema